Prima prova regionale 2018, Emilia Romagna, Girone B, terza squadra classificata, Garesti Dario. Innanzitutto, i complimenti sono d'obbligo, ma i componenti della squadra, chi c'era oggi? Sono io, Menegatti, poi c'è Telegatti Tiziano, c'è Balbone Giuseppe e Bruno Di Malco. Ok, quanti punti fate oggi? Facciamo 13 punti. 13 punti con una pescata impostata come? Ma una pescata impostata a 5 pezzi di canna a sottoriva, abbastanza difficile come pescata. In tutte e due le zone? No, terza e quarta zona. Prima e seconda zona ha pescato più fuori, 13 metri. Cavolamo come vi aspettavate? Sì, cavolamo, sempre solito cavolamo, cavolamo difficile, imprevedibile, comunque va bene, c'è un po' più di più. Complimenti ancora. Grazie.